In questo caso il segreto è di osservare quello che sta facendo gli altri, ma non capita di rado perché vogliamo piacchierare. E' stato tutti così attenti. No, 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 no. Noi sappiamo già furto. Si sbraita a dire sempre che si è passato. Poi muovi il piede, muovi la mano, sta di parta. Infatti a lui non dico niente. Ma riuscite a non salirmi? No, no, no. Ti ha male di buona. Arca trae! Quindi mi garantisca questa corda, vero? In teoria dovresti salire. Oh Danilo, almeno i due passi. Che cazzo ti arrendi? Manca iniziato. Danilo fai come me. Guarda che vai! Guarda che vai! Passi piccoli eh! Passi piccoli... Eh, ma un gigante! Non si vanno a vedere la pavola? Ahahahahah Non so, non guardare le pavole Fuori con il posto qua, non guardi dove metti i piedi, spingiti fuori per le spalle ecco, correndo, tranquillo, di scioltezza ah, si, mi metto un po' l'aria è caldo però, può dare segui d'accordo guarda dove metti il piede, hai visto? eh, se non guardi l'appoggio, lo sai a metterlo in maniera sicura anche più corti i passi cambia la licenza di Archif ecco 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 E' un po' lungo ma insomma, ho dovuto fare un salto, quando ero troppo a destra. E' un po' lungo, è un po' lungo, è un po' lungo. No, la posizione lì è da biocco potentissimo. La posizione lì è da biocco potentissimo. Vai come dici, come è tutto? Live senza pagare, su premium per i prossimi tre anni. Dai, dai, grandissimo! Votati giù che è morbido. Devi arrivare oltre quel giro. Stacca il chiodo rosso quando arrivi su lui. No, non dico neanche per scherzo, per amore di Dio. Hai visto? Dai, con un piccolo passo. Faccio fare la foto. A me la foto non lo so se è la. A chi? A te la ho fatta la foto. Sì. A posto, basta così! No, ma è salito anche su. Ma è salito anche la di 4 centone. A me la metterei. Ma tu rischi pericolo, Dio. Vabbè, dopo faccio quella giola. Ti eviterei. Buttati giù, secco, di testa. Cazzotene. La vita è una. Dario! Danilo! Danilo! Zanzi, sei vivo? Non ho le mani, sì. Perché non trova l'importazione? Sta facendo un video. Siamo vittima di Facebook. Dai zitto e buttati giù. Vieni giù! Ma... Danilo, si fa notte! Ma poi non asciugare il tipo, vieni giù! Vieni le mani! Sì, via le mani della roccia! Sì, arrivo, eh! Bravo! Domani! Dai! Spingili fuori con le gambe, spingene, spingene, spingione! Sempre con queste gambe piegate! Spingiti fuori con le gambe, spingiti fuori! Dai, salta! Hop! Hop! Via! Beh, fai anche la giualda. Io la fai... Senti le gambe! Poi te lo dico, ma io non riuscirò mai a farlo. Eh, questo qua lo muoio! E si scende la massima verticalità dell'ancoraggio. Non spostamenti a destra e a sinistra, la parola si taglia. Eh sì, non mi sono fatto. Grande, due di picche. No, non mi sono fatto. No, non mi sono fatto.